Questa cosa ve la devo dire per forza perché sono tipo ancora sconvolta. Allora praticamente è il mezzogiorno, non so se guardate la televisione a mezzogiorno, forse no, forse sì, però io sì. Su Rai1 fanno un programma che praticamente ha un altro nome, però altro non è tipo la prova del cuoco. Lo fa la Clerici, si è ripresa il suo programma, prima lo conduceva un altro, ora l'ha ripreso il programma. E' praticamente dal 2020 che provo a prenotarmi per giocare a questo benedetto gioco. Ogni giorno, ogni giorno, dicono ora ci devo provare, ci devo riprovare, dai vai vai. Fino a che mercoledì scorso mi sono prenotata, ho detto dai ma che vada, anche stavolta mi scartano. E niente, poi ci sono state le lezioni, il programma non si è fatto, quindi ho detto vabbè dai, che se ne frega ci riprovo. E ho detto no, stamattina ricevo una telefonata da un numero privato, io dico no chissà chi mi chiamo. Era la Rai, io sconvolta a piangere, o Dio mi ha chiamato la Rai, ha detto sei stata selezionata e giocherai oggi nel programma. Mi richiamano, mi dicono sei la terza, io gli ho già detto no, sicuramente mi faranno giocare a pentola e dispensa. Perché è un gioco difficilissimo, perché tu magari qua lo riesci a fare, sai sbagli, però tu con l'emozione, con il tutto, insomma è un casino. Ho ascoltato tipo per un quarto d'ora il programma dal telefono, stupendo, io sentivo l'anteprima e nella televisione si sentiva poco dopo. Prima ho giocato una signora, poi ha perso e poi ho giocato a me. E praticamente la ricetta da indovinare il pollo fritto. E mi sono impicciata sulla farina, perché ho detto che la farina va nella dispensa invece che nella pentola. Oggi sono mille euro, con mille euro già mi stavo a fare film, mi sono detta da con mille euro mi compro il nuovo iPhone. Con macchie, però sono comunque sconvolta, però sono comunque contenta. Dopo mi devo andare a vedere la registrazione su RaiPlay, perché non ci credo, ho giocato a un gioco Rai. Cioè ho fatto tipo il provino per i soliti minuti, però non sono mai stata appresa. Adesso è già una grande vittoria se ho giocato qua, è sempre mezzogiorno. Io super happy.